Sono agitata! Penso sia normale! Ho un colloquio di lavoro! Esperienze volative! Beh, lavorative, lavorative, proprio no! Pronto? Sì, salve, chiamo per quell'annuncio. Ah, laureata? Sì. In cosa? Scienze della comunicazione. A te? Cento dieci! Interinale? Come, prego? Buona, c'è sì, interinale la bonta! Ma, veramente nessuno, non sapevo che... No, mi spiace! Noi lavoriamo solo con interinale! Ma, scusi, non avevo capito che bisognasse avere... La laurea, tu le fai da te? Ma... No, c'è sì! Ma io non sapevo che... Oh, io! Le agenzie interinali sono un po' come quelle immobiliari... Solo che loro invece che case vedono persone Impiegasi numero un manovale esperto Con camere, due bagni, cucina e ipotecati Offresi segretari con gli occhiali disponibili a farsi sposare dagli avvocati Nuda proprietà Scercasi numero un manovale esperto Con permesso di soggiorno In cucina Mi chiamo Assunta Buona Vodà E sono destinata a un futuro di gloria Istruzione e formazione Prima della classe ad elementari e mezzo inferiori Di rilova di maturità scientifica Cento centesimi Laurea di primo livello in scienze e tecnologie della comunicazione Centodieci su centodieci E nove Laurea magistrale scoplaude E esperienza di studio all'estero Di prova di recitazione presso la libera potente dell'ospettacolo Pensarci bene E' questo che mi terrorizza E i secondi si accavallino Diventando minuti Ore Giorni Mesi Anni Ed io Ancora mi perderò nei miei sogni ad occhi aperti Chiedendomi Che cosa voglio fare la grande Anche io voglio fare la modella Anche io voglio fare la modella Anche io voglio fare la modella Magari ti danno pure un leone e una palma d'oro Perchè non sai fare un cazzo Ma lo fai con grande charme Vorrei proprio Che qualcuno mi abbracciasse Vorrei Apri Dove abbraccio Perchè si sa Il merito e l'impegno pagano sempre Che culo è avuto ad incontrare me Che culo è avuto ad incontrare me Che culo è avuto ad incontrare me Che culo è avuto ad incontrare me